E tu chi sei? Il giovane guardava con stupore l'uomo che gli aveva appena rivolto questa domanda. Tu chi sei? Con l'alba sorgevano i contorni di qualcosa a cui il giovane non poteva dare un nome. Erano case molto grandi, alcune chiare, altre scure. La più alta di tutte conteneva una finestra rotonda con dei segni. Non aveva mai visto un orologio. Tu chi sei? Il giovane non capiva. L'unico altro uomo che aveva incontrato in vita sua. Quello che chiamava tu gli aveva insegnato solo qualche parola. Non so, disse. Come? Diventare cavaliere. Scandiva lentamente le parole. Questo è un idiota, pensò l'uomo grattandosi la barba. Il giovane stringeva in mano un biglietto indirizzato all'illustrissimo signor capitano di cavalleria presso il quarto squadrone del sesto reggimento dei cavalieri di Norimberga. L'uomo prese lo straniero per un braccio e lo invitò a seguirlo. Lui lo fece docilmente. Si teneva piegato in avanti, bilanciandosi a ogni passo. Procedeva con estrema difficoltà. Intanto la luce era diventata più forte. Arrivarono a un canzello, vide una casa grisa e altri uomini, anche loro, grisi. Erano arrivati alla caserma di Norimberga. Era il 26 maggio 1828. La polizia avviò subito una pratica. Fu messo agli atti il contenuto del biglietto. Illustrissimo signor capitano, il ragazzo ha chiesto di poter servire il suo re. Mi è stato rimesso, vale a dire affidato, appioppato di nascosto il 7 ottobre 1812. E io stesso, che sono un povero lavoratore aggiornata, ho già dieci figli di mio e fatico per tirare avanti. Non sono riuscito a sapere l'identità di sua madre. Dopo le scuse per lo stato in cui si trovava il ragazzo, il messaggio terminava così. Se non lo tenete dovete ammazzarlo oppure appenderlo al camino. L'inquirente si guardò intorno. Che ne pensate, signori? Un idiota, un abile impostore. Forse punta a una qualche pensione. Il giovane, che sembrava non capire una parola, si illuminò vedendo una penna sul tavolo e la ferrò con vivacità. Gli misero sotto mano un foglio di carta, su cui scrisse, in caratteri chiari, Kaspar Hauser. Bene, disse l'inquirente, ora questo matto, o impostore che sia, ha un nome. Kaspar era di statura media, con gli occhi chiari e lunghi capelli biondi. Se afferrava qualcosa, gli tremava la mano. Se lo toccavano, sussultava. Se gli offrivano del cibo, che non fosse pane e acqua, rifiutava con una smorfia. Passava il giorno seduto, con le gambe tese. Nel coricarsi, piombava subito in un sonno profondo. Si arrivò alla conclusione che era stato segregato per anni. Sembrava infatti non possedere alcuna esperienza del mondo. Fu alloggiato nel carcere della città, dove lo trattarono con riguardo e affetto. Il comune di Norimberga stabilì una somma annuale di 300 fiorini per il suo mantenimento. Diffusasi la notizia del suo ritrovamento, cominciarono le visite dei curiosi e dei superstiziosi. Gli adulti più benevoli apprezzavano la dolcezza di questo selvaggio spuntato dal nulla. I bambini giocavano con lui. Tutti gli facevano domande, portavano regali, studiavano e discutevano le sue reazioni. Kaspar se ne stava seduto a giocare con dei cavallini di legno. Ogni volta che ne vedeva passare uno vero, esultava tra le risate generali. Notarono una vaccinazione sul suo braccio. Fatto curioso perché all'epoca solo l'aristocrazia poteva permettersi di far vaccinare i propri bambini. Forse è di famiglia nobile e hanno voluto farlo fuori per motivi di successione. Chissà, potrebbe essere uno dei duchi di Baden. Duca o no, è un subnormale. Magari è un licantropo. È un figlio di Dio, ma scalzoni. Un nato di donna. Lasciatelo in pace. È buona, nonnina. L'afflusso dei visitatori aumentò. Tra loro non mancavano uomini di scienza che sottoponevano Kaspar a esperimenti di logica. Ce n'era uno che Kaspar vedeva con piacere. Era un giovane, esile, con un gran pomo d'adamo. Un insegnante di nome Georg Daumer. Quando la pressione dei curiosi si affievoliva, Kaspar gli faceva volentieri qualche domanda. Perché gli uomini che giocano con me sono più piccoli degli altri. Non sono uomini, sono bambini, ma col tempo cambieranno e diventeranno uomini. Questo è impossibile. Kaspar fu affidato ad Aumer, che viveva con la madre e la sorella alla periferia di Norimberga. Grazie alle cure amorevoli dell'insegnante, Kaspar cominciò a vivere. Vagava stupefatto per la città. La sua brama di imparare era inesauribile. Daumer lo guardava con occhi fraterni. Pensava. Nella parola onesto e nel pensiero. Che cosa ti ha portato qui? In breve Kaspar seppe provvedere alla propria igiene personale. Iniziò a variare la sua alimentazione. Cominciò a leggere e a scrivere. Imparò con facilità ad andare a cavallo. Forse discende da una stirpe di cavalieri, dissero in città. Kaspar amava sedere con i bambini sul bordo dei ruscelli, immerzendo i piedi nudi sotto la superficie dell'acqua. Il solletico della corrente tra le dita gli dava allegria. La sua passione erano i lavori di giardinaggio e le lunghe passeggiate. Ammirava le piante, i frutti, gli oggetti, i vestiti, gli animali. Di ogni cosa chiedeva chi l'avesse fatta. Apprese anche il gioco degli scacchi. Non mi piace questo gioco, Georg. Perché, Kaspar? Perché vince sempre il più forte. È giusto così. Questo non è giusto. Si svegliava presto ogni mattina per vedere l'alba. Alla sera ammirava il tramonto. Tramonto. Sonnolenti strade. Sole sciropposo. Vivere bene. Tutti felici. In carrozza si sporgeva dal finestrino. Gli alberi ci rincorrono. Poi guardava i cavalli e rideva forte. Passava ore ad osservare i merli costruirsi il nido. Ma la felicità più grande era vedere fiorire i semi da lui stesso piantati. Non amava andare in chiesa. Lo impauriva la gente immobile a mormorare cose incomprensibili e a urlare tutta insieme. Una notte d'agosto andò con Daumer sulle colline intorno a Norimberga per guardare le stelle. Se ne stava sdraiato serenamente quando d'improvviso si rattristò. Perché tu mi hai tenuto sempre in gabbia disse. Chi è tu Kaspar? Kaspar raccontò la sua storia ad Aumer il quale nei giorni successivi lo aiutò a scriverla. Kaspar era sempre vissuto in un rifugio dalle pareti di pietra illuminato da una finestrella. Trascorreva le sue giornate seduto per terra con le gambe tese. Una cintura lo incatenava ad un anello di ferro. Se non dormiva giocava con un piccolo cavallo di legno intorno al quale legava e scioglieva un nastro. Le bracche erano aperte per facilitare le evacuazioni che facevano un buco nel suolo. Mentre lui dormiva tu passava a svuotare il buco e a lasciare pane e acqua. Un giorno tu gli mise davanti uno sgabello sul quale pose un blocco di carta. Aiutandolo a impugnare la penna gli mostrò come trazzare segni sul foglio e gli insegnò a scrivere il nome Kaspar Hauser. Cominciò anche a fargli muovere qualche passo su e giù per il rifugio. Dopo alcuni giorni lo portò all'esterno. Kaspar non aveva mai visto le stelle. Le indicò con gioia. Tanto sono tutte morte disse l'uomo. Camminarono a lungo. Arrivati in vista di una città tu gli disse di proseguire da solo. Là ci sono tanti cavalli. Vai su! Diventerai cavaliere come tuo padre e io tornerò a prenderti. La notizia che Kaspar Hauser stava scrivendo la propria storia arrivò ai giornali. Poco dopo ci fu il primo tentativo di assassinarlo. Una mattina Daumer e sua sorella sentirono dei rumori provenire dalla cantina e vi trovarono Kaspar in un lago di sangue. La fronte presentava una ferita così profonda che si pensò a un colpo di scure. È stato tu. Mi ha detto morirai prima di uscire da Norimberga. Disse mentre lo soccorrevano. Ma io non posso morire perché sono al mondo da poco tempo. Sono al mondo da poco tempo. La ferita una volta medicata non diede preoccupazioni. Qualcuno ipotizzò che se la fosse inferta da solo con un rasoio per attirare l'attenzione che a poco a poco andava ascemando. Tuttavia una donna riferì agli inquirenti che la mattina seguente all'aggressione un forestiero in abiti eleganti le si era avvicinato per chiederle se Kaspar Hauser fosse morto. Aveva risposto di no e l'uomo si era allontanato di buon passo diretto verso la porta della città. Si decise di trasferire Kaspar ad Ansbach dove passò di precettore in precettore. Nel dire addio ad Aumer e alla sua famiglia aveva il fiato corto. Kaspar stai sudando. È faticoso salutarsi Georg. Il comune di Ansbach gli trovò un impiego alle poste. Kaspar andava in ufficio ogni mattina e passava il suo tempo libero a fare lavori di giardinaggio. Amava stare con i bambini. Sapete il mio amico Aumer ha detto che voi diventerete come gli uomini. Che cosa sciocca sarebbe ridevano i bambini. Lo penso anche io. Ora nessuno gli faceva più visita. Nei curiosi, negli studiosi di nessun genere. Inoltre molti tra quanti lo avevano sostenuto lo consideravano un impostore, uno scaltro simulatore che si era preso gioco di giuristi e pedagogisti di chiara fama. Arrivarono a detestarlo per questo. A 22 anni Kaspar era ormai un uomo ordinario. E solo. Fu allora che venne assassinato. Un giorno di dicembre del 1833 tornò a casa in preda a un'estrema agitazione. Entrò nella stanza di suo precessore indicandosi il petto dove una macchia di sangue si allargava. Disse che un uomo nero come uno spazzacamino lo aveva colpito e svenne. Al risveglio morborò. Viene l'uomo, via, non ammazzare. Io ho tutti cari gli uomini, anche te. Raccontò che durante una passeggiata nei giardini un uomo con la barba nera gli aveva offerto una borsetta viola e nel dargliela lo aveva colpito con qualcosa. La febbre saliva ogni giorno. Kaspar dormiva a tratti, si svegliava di soprassalto e ripiombava nel sonno. Le ricerche sul logo dell'aggressione, vera o presunta, non portarono a nulla. Fu però rinvenuta la borsetta viola. Era legata con dei cordoncini celesti e dentro c'era un biglietto. Hauser vi potrà raccontare che aspetto io abbia e da dove provenga. Per risparmiare la fatica ad Hauser voglio dirvi io stesso quale sia la mia provenienza. Vengo dal confine bavarese. Voglio dirvi perfino il mio nome, M-L-O. Fu chiamato un prete. Vuoi pregare per i tuoi peccati, figliuolo? No. Pregorò io per te. Padre, perché le donne non mi hanno mai trovato bello? Io le ho sempre trovate belle. Il prete si inginocchiò davanti al crocifisso appeso alla parete e cominciò a recitare. A te, mio Dio, che mi hai addestrato per tempo alla scuola del dolore, ma mi hai sempre protetto. A te mi rivolgo. Intorno a me si fa buio. Fa splendere la luce della tua grazia. Perdona i miei peccati. Amen, dissero i presenti. Il sole tramontò rapidamente. Una striscia di luce dorata scivolò sopra il letto lambendo Caspar. Padre, sono nato troppo presto o troppo tardi. Che ti sono venuto a fare in questo mondo? Ci siamo, sussurrò il dottore all'orecchio del prete. Sei stanco, figliuolo? Sì, padre. Vuoi confessarti? Il mio corpo è pesante. Devi pentirti dei tuoi peccati, figliuolo, finché sei in tempo. I miei pensieri si dileguano. Si assopì. Si risvegliò subito. Dio mi ha dato gli uomini migliori. Ma il mostro era più grande. Si guardava intorno, come per difendersi con gli occhi. L'ultima notte sognò il bosco in inverno. Il tramonto. Le ombre degli uomini allungarsi sulla neve. Quando morì, gli fu praticata l'autopsia. Il soggetto in questione presenta una ferita sul lato sinistro del torace. Il colpo, inferto con un punteruolo fine, lungo e affilato, si è rivelato mortale. È stato vibrato con grande violenza, a quanto si deduce dalla perforazione di tre indumenti pesanti e dalla penetrazione della lama fino al fegato, dopo aver trapassato pericardio e punta del cuore. Gli furono asportati polmoni, fegato e cervello. I polmoni, piccolissimi, fanno pensare a una lunga reclusione in un luogo chiuso, nella quale il soggetto non ha mai potuto esercitarli in una grande massa d'aria. Dal fegato, grosso e poco sviluppato, deduciamo l'impossibilità di muoversi liberamente. Il fiele nerastro e violaceo svela un'alimentazione di sostanze vegetali ricche di carbonio, come ad esempio il pane secco. Il cervello piccolo e di forma difettosa spiega la demenza del soggetto. Un corpo svuotato fu quello deposto nella piccola bara. La polizia accumulò 49 volumi di verbali, senza arrivare a una soluzione del caso. Sulla lapide fu inciso. Qui giace Kaspar Hauser, enigma del proprio tempo, di nascita ignota e di morte oscura. Per qualche tempo i piccoli amici di Kaspar portarono dei fiori di campo sul luogo dell'aggressione. Poi diventarono adulti. Grazie a tutti.